Igor Gaida, allenatore del Baglio Dora, che oggi ha perso pesantemente 5 a 1 sul campo della Vischese, dopo però aver fatto una buona serie con 5 risultati utili consecutivi, è stata l'espulsione ad avervi condizionato così pesantemente? L'espulsione è contata, non molto diciamo, secondo me è stato più un atteggiamento della mia squadra sbagliato, è una squadra giovane, la più giovane del campionato, forse ci è mancata un po' di esperienza e di stare con i piedi per terra soprattutto. Avete giocato contro una squadra comunque forte, una delle più accreditate per far bene in questo campionato, che cosa ti aspetti dalla tua squadra da qui alle prossime partite? Che cosa potrà insegnare questa sconfitta pesante? Sicuramente spero in un bagno di umiltà dei miei ragazzi, perché appunto oggi è stato sbagliato l'approccio, perché arrivavamo da dei risultati positivi e l'approccio è stato sbagliato, ci servirà, è stata una lezione per far capire dove siamo e mi aspetto già da domenica una reazione pronta e decisa. Ecco domenica, prossimo turno contro chi giocherete? Contro il PVF. Insomma, in teoria è una partita abbordabile? Forse la più difficile del campionato, perché appunto, le ripeto, la testa conta molto, soprattutto in queste categorie, ho visto, ormai le abbiamo affrontate quasi tutte, è un girone abbastanza equilibrato, quindi la testa e l'approccio alla partita è molto importante.